Sono venuto da Bologna con la mia associazione teatrale Burattini a Bologna, i burattini sono questi, sono degli oggetti come le marionette ma senza i fili in cui ci si infila la mano nel vestito. Sono venuto da Bologna, Italia con Alberto e Cristian in questa associazione. Lui invece è fagiolino, il burattino si muove, vedete così, infilando la mano, come si dice guanto in francese, è un guanto, è come il guanto, vedete? Il dito indice nella testa, il pollice nel braccio e le altre dita nell'altro braccio. Questo è il movimento minimo del burattino, che ha la testa e le mani indietro. Quello a cui assisterete sarà, in tutto e per tutto, uno spettacolo di commedia dell'arte fatta con il burattino. Pantalone, balanzone, il dottore, sono i personaggi più anziani, più vecchi, rappresentano il potere, i padroni, i soldi che gestiscono i servitori e gli amori dei figli. Il dottore, balanzone, rappresenta la mia città, Bologna. Pantalone è un personaggio veneziano. Io vi ho portato da Bologna una maschera in cuore, che è proprio quella che usano gli attori per interpretare. La mia città è un personaggio veneziano. Il dottore, palanzone, rappresenta la mia città, Bologna. Qui si udendo le maschera in cuore, è quello che usano gli attori per interpretare. il giugno del teo carattolo e l'impianto e l'opera lo schiara e solo il produttore ha questa particolare maschera e anche pochi altri, qualche capitano, ma solo il produttore ha questa maschera che copre la fronte e il naso. Tutti gli altri, pantalone, arilecchino, cribella, fucinella, hanno la baruta, la mezza maschera che copre la parte superiore del mondo. Tutti gli altri personaggi hanno un demi-maschera che copre la parte superiore del mondo. Non c'è una baruta, quanta per la siente, quanti miei poteri. Adesso mi vado dalla mia cara colombina, la mia moguetta, che se la mi ha spasimato e se mi trovo la colombina, e если ogni persona ci trasera da di s Mole, anche le nonendenze come, Il suo lavoro è l'azكestolo il nostro consiglio�o, il suo lavoro è il nostroelesseoressino, containing il suo lavoro è iddio anche il suo lavoro. che forse l'acqua, sa, no, sa di sciogliere che non vuol farlo, io a Bologna mi sto perdendo le tagliatelle e io voglio esportare la ricetta in tutto il mondo, ma si copre le tagliatelle e non le sanno ci fare, io esporto gli spaghetti alla Bolognesia. Vieni qui Scarabino, cantando un basè, che bello, un applauso, ti butta il fiato, si vede che hai baciato troppo in basso, Mosè, hai mangiato Scarabino, io ho mangiato il buco dei maccheroni, allora andiamo a costeria, l'ho nato sempre sia, andate a andare se qualcuno ci paga da bere, attaccati alla veretta, viva i muratini, grazie! Noi c'è un personaggio nello spettacolo che adesso prima di iniziare vi andremo prevenire a spiegare, a introdurre, c'è un personaggio che si chiama Bertha, Bertha è anche il nome di un'anziana governante che c'è nelle barbiere di Siviglia di Rossini e quindi ve la faccio vedere. che si chiama Bertha è un personaggio che si chiama Bertha, che si chiama Bertha, sono tormentata della passione d'amore. per professi, adesso vado dalla mia panorroncina, dalla Renata, poverino, e-sa Florino, andiamo a vedere cosa succede! Ecco, vedete come poi i muratinai abitano la voce. Allora, tutti questi personaggi che vi abbiamo fatto vedere ruotano intorno a una storia. Cioè, la storia tra Rosaura, figlia del dottore Balantone, e Florindo, figlio di Pantalone. Rosara, che è la figlia del dottore Balantone, vorrei parlare con Florindo, figlio di Pantalone. Esatto. Di solito, nella commedia dell'arte, l'amore e il futuro patrimonio dei due giovani è contrastato da un elemento disturbante, cioè da qualcosa che capita nella situazione della storia. Allora, e quindi, questo mariaggio va essere perturbato da un'immagine di Pessi. Quasi l'amore di Pessi? Allora. Quindi, ma questione, c'è qualcosa che va venire perturbato questo mariaggio. Io ci vedo questo dietro, sono quasi gioco. Da di dietro, da dietro, da dietro, da dietro, da dietro. Da una carta. Da una carta, vieni a portare l'arte di passi. I passi pesanti, rifiuti marziali, la strada di scuola che gli stivani. che è il capitale di nome fracassa che il cuore delle belle conquista e rapassa ecco questo sentite com'è tutto fracassone fanno proprio confusione perché lui si è messo in testa pensa di riuscire a sposare Rosaura perché è molto bella e molto giovane ed è anche molto ricca allora siccome la figura del capitano come vedete anche lui con la maschera non è altro che un arlecchino, un cucinetta che ha intrapreso la carriera militare quindi è una persona che comunque cerca invece che spaccare un aio con gli spedenti di trovare sicurezza economica anche della carriera militare e quindi lui ti rompe in casa del dottor Baranconi creando lo sconfitto grazie a tutti grazie a tutti ma lui è un come stai a dire a dir? forse la Rosaura da qualche impedimento dè sono altri? Tutto nuovo, un grigio, ma proprio il contrario, il cuorecino della mia romazzola spedesso il vaig, il successo dell'utice, per il vostro stilto floritto... Ma, 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 ma. Ma, ma, ma 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 ma, ma 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 Siete Capitano Dragassa. Siete Ruf Ruf! Io ho fatto felice al domanda subito presto? Recchsiche, precchiche cosa mi ha scritto, mi ha scritto, guardate, verrà oggi, poverizzo, fra praticamente tre ore a parlare con voi e per me avere una risposta per il matrimonio, mi ha tagliato con vostro figlio. Allora, mio Dio tornerà stanotte prima di quell'ora, noi altri che avevamo da risolvere una questione che la poterebbe diventare scapposetta perché invece lo ritmo, il fuoco come il sè, e se poterebbe compromettare ciò, mezzo sarebbe a parlare al vostro servitore Scanafino, e poterebbe accadere all'occorrenza una buona ragione a quel repotente del capitano. Scanafino 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 dove sei? Scanafino Scanafino Noi non sono tu, anche te, anche tu! Non è che stella a posire, eh? Per la viso, che abbiamo già fatto nostro posto per il giovane, e che è un po' di farlo, ma è successo! E' un po' di soluzione, in un po' di silenzio, e' un po' di siti, e' un po' di siti, e' un po' di soluzione, non è un po' di soluzione! E' un'altra, prena maniera, maina! Lo hanno un po' di una sequela, interdosta, di anti-salanti e soledissime mazzolante. E' certo, e noi sapremo a loboizza dargli anche una buona manca, per cui c'è il caffè. Non ti preoccupare il caffè, non ti preoccupare, che ti avrà una buona mancia. Non ti preoccupare il caffè, e quel capitato si ha riuscito a dare una volta per tutte. Non risinare, in quanto abbastanate, e perdereai, che da lonti al naso ti contavano dei tesonanti, tuoi fritti, paio, euro, fiorini, scherriti, sbagliari. Tu dalle mie stavette, le malitoste famiglie a lavorare con il tuo padrone. Il mio padrone ha detto che così ti può essere caffattato, ma vuole parlare. E ha anche detto che la tua giara non te lo lascerà, mai ci può dare. Hai capito? Cavaltiere dei miei stivali. Come? E tuoi amici? Ecco di servito! Stavate a vedere che adesso faccio il primo padrone. Cattate le mani del schiazze qua! Io sono qui per bastonarti, ma la mia scopa parte in tocca, e spadarti nei pittone del rusco, per il tuo nere! E' una vera scopa, a me per la testa! E' una vera scopa! E' una vera scopa! A scopa! A scopa! Metteo questa casa felle a fuoco, e passero tutti a fin di spara! Ho detto! Oh, come erano me! Povero pantalone! Povero balanzone! Povera rosaura! Aiaiaiaiaiaiai! Povero scarapino! Oh, come si fa adesso! Là c'è una brutta faccenda! Mi non ne posso più! Andiamo sul salone a pensare cosa fai! Ma avevi lasciati qui da per solo! Avevi aiuto! Come moravo col capatano! Bertha! Bertha mia cara! Bertha! Vieni Bertha! Vieni! Vieni! Oh! Scarapino ha fallito! Ha preso le bastonate! Lo so! Adesso avviciniamo il suo bene! 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 C'è la rosaura che bisogna di lei! Rosaura seguimi! E non avere timore! Figlia mia! Dobbiamo trovare una soluzione! Ma padre! Ma padre! Questa soluzione! Che dobbiamo trovare sempre introvabile! Al soffio! Al soffio! Dobbiamo trovare un modo per allontanare questo avvenimento! Capitato! Lo soffio! La! Il suo bene! Il suo bene! Si! Dobbiamo trovare un'altra cosa! Il suo bene! Oh! Brarino! 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 Seguro! Pobre! 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 ti metto a dire che il capatano è una tarabinia di prima categoria oh mi fiola è promessa sposa a Florindo di figlio di Polendone e tu me ci ha provato a stambiarlo ma poi ho cambiato idea le hai prese ma più che altro è lui che me le ha date tu devi aiutarci me tu tu si bisogna persuadere il capitano faccia per anche loro so per te stanghe bim bum bim esatto prima di tutto vuoi vado a la Rosaura se vi piace accetto ma c'è una raccoglia la vado in dalcanare lì con tutta la sua casa adesso vado a sapermi sì sì andiamo a chiamare la Rosaura intanto invece voi sareste poi quello che vorrebbe sposare la mia bovina la Rosaura esatto appunto bene bene adesso oggi ho vogliato fatevi andare dove un momento un momento fai l'elecro un momento fai l'elecro un momento ho detto che tutto quanto va bene che tutto quanto è l'ordine non ti preoccupare me adesso bisogna andare in club ma che altro oi l'altro fratello un altro fratello ma in quanti siete io ho avuto un po' le finale che c'è di una famiglia qua e questo qui quello che devo è il fratello più piccolino molequantio taraghenia detto bene a me piace avere che fare coi prepotenti da bene allora che ti raccontare sovi ecco andatevi a un po' stare questo è il mio fratello ah sì quello è il tuo fratello bene e allora questa è mia sorella a lei il cuore che mi ha il mio fratello ha studiato dal modi anche nell'antica Spagna ma ce l'hai permesso ora ti farò assaggiare un colpo che ho imparato in Francia tra la Francia e la Spagna basta che smaglia in guardia allerta e allora qual'è questo corpo sceglieretto cantica bene le petite coupe d'amore il piccolo culo dell'amore il mio fratello disarmato sul mio ah 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 basta 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 hai tagli al bullbo ah 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 il contragosto è da qua ma la bruta fa ah 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 adesso muo tutto nel bidone del rusco Un applauso a Antonio! 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 Grazie a tutti